È un tuttocampista, così come stiamo cercando di indicare quei calciatori che andranno ad essere i tre di centro campo, convocazione, perché poi c'è tuttocampista e convocazione offensiva, c'è tuttocampista e convocazione difensiva. Blen è un tuttocampista convocazione difensiva, capace di giocare prevalentemente dietro la linea della palla, 60% box to box, 40% mediano centrale. Così Pantaleo Corvino ha presentato Alexis Blen, centrocampista centrale, 24 anni, viene dalla Francia dove ha giocato sia nel massimo campionato che nell'equivalente della Serie B. Viene dalla Mien, si ispira a Kantè, non ha deciso il numero di maglia, ma lo farà a breve e si racconta così. Non ho ancora deciso un numero di maglietta, lo deciderò a giorni. Per quanto riguarda il calciatore a cui mi ispiro, essendo francese, Kantè, un giocatore molto semplice ma efficace, soprattutto di molta corsa e che aiuta molto i suoi compagni di squadra, quindi mi ispiro a lui. Farò del mio meglio per imitarlo qui a Lecce, cercando di aiutare i miei compagni nel campo, sia per quanto riguarda il livello di corsa che di gioco.